sono già lì con la telecamera grazie cambio oddio pensa che vi mette sotto ma paga c'è un'assicurazione la cava di 108 ettari volgete lo sguardo e vedete fin dove arrivano tutte quelle luci qui sarà la più grossa cava di tutta l'estera vedete qui c'è tutto recitato e che prova ma non ce l'ho fatto ma è preso con lo specchietto perché ci deve proteggere anche tutti quelli che per la prima volta vengono in questa zona ricordatevi che se dovesse partire quest'altra sono si vabbè adesso ci fa c'è tutto qui va bene io ho grande Grande pezzo! Buon carattere per tutti quelli che vogliono usare qualsiasi schifrezza. Noi che pericuriamo l'attenzione come questo. Andiamo tranquilli, tanto che tranchiamo e noi ritorneremo al nostro presidio. Come ci ha detto e come diciamo sempre, non si mangieranno via dalla nostra terra. Saremo sempre vigili e vedremo sempre controllare di quello che faranno. Comandante non è che ti pregano di vanno a mangiare l'uovo dietro? Vanno? Non c'è la salamella sguarnita? Facendo la salamella. it Grazie a tutti.